responsabile della task force regionale Lucana, buongiorno, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti. Ecco, oggi è il giorno dell'arrivo in Basilicata, prima a Matera e poi a Potenza, a Matera alle ore 15, poi a seguire nel capologo lucano del commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Come ci si presenta a questo appuntamento con il commissario, come si presenta il sistema Basilicata, dottore Esposito? Sicuramente con una forte spinta che abbiamo dato, una forte accelerazione nell'ultima settimana per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini, che era quello che ci aveva chiesto il commissario già da qualche settimana e noi ci siamo immediatamente attivati proprio per dare maggiore, somministrare un numero maggiore di dosi vaccinali. Ecco, buona performance negli ultimi giorni, dottore, ma il numero e il rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate rimane sempre abbastanza basso rispetto agli altri rapporti. Cosa metterete in campo per aumentare ancora il numero di vaccinazioni, anche in vista del target che ha fornito il commissario straordinario Figliuolo, ossia quello di 21.700 dosi nel periodo 16-22 aprile, mentre quello giornaliero è di 3.100. Metterete in campo altre strategie per aumentare questi vaccini? Sicuramente la prima che già abbiamo messo in campo riguarda i medici di medicina generale, che da lunedì già hanno avuto le prime dosi da somministrare ai loro pazienti, ma se possono somministrarle anche ai pazienti afferenti a medici di medicina generale che non hanno aderito alla campagna vaccinale. Quindi già questo è un primo punto. A seguire ci saranno le farmacie. È stato siglato nelle settimane scorse il protocollo d'intesa tra il Ministero e i rappresentanti delle farmacie. La settimana scorsa noi abbiamo preso atto, recepito questo accordo e nei prossimi giorni le vaccinazioni potranno essere effettuate anche nelle farmacie. A questo poi c'è tutto il capitolo dedicato ai siti produttivi. Abbiamo in itinere un accordo con le industrie per installare e istituire anche dei punti vaccinali nelle siti produttivi che ne faranno richiesta. Tra l'altro anche c'è una possibilità in più quello di inviare un sms con il codice fiscale ad un numero ben preciso 339 99 039 47 per la prenotazione. Probabilmente anche questo potrà in qualche modo incrementare il numero dei vaccini. Sì, senza dubbio. Noi poi tra l'altro appena abbiamo finito gli ultimi richiami per gli ultraottantenni che si concluderanno nel giro di qualche giorno, le forze che noi abbiamo, le squadre che fino ad oggi sono state impegnate nei richiami nei vari comuni della Basilicata, vorranno concentrati nei siti vaccinali e quindi si aumenterà ancora di altre unità la capacità di somministrare i vaccini. Quindi in buona sostanza dagli 11 punti vaccinali odierni, che stiamo vivendo in questi giorni, potranno aumentare di molto i punti vaccinali se ci aggiungiamo le farmacie e le industrie. Quindi si potrebbe di molto allargare con un effetto esponenziale sul numero dei vaccini somministrati. Senza dubbio, senza dubbio. Ci sarà un grosso aumento, ripeto, già con i medici di medicina generale abbiamo iniziato. Poi seguiranno farmacie e poi siti produttivi. Quindi avremo a disposizione numerosi centri vaccinali diffusi in maniera capillare su tutto il territorio regionale. Si parla molto negli ultimi giorni, soprattutto sulla stampa nazionale, dell'arrivo dei vaccini Johnson & Johnson. Ci sono delle tempistiche anche per la Basilicata, dottore? Prevediamo l'arrivo all'inizio del mese di maggio. I primi arrivi erano previsti per il 16 aprile. Ci sono stati dei motivi burocratici che hanno rallentato. Per l'inizio di maggio avremo probabilmente anche le dosi vaccinali di Johnson & Johnson. E poi dal 27 di aprile, anche nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, da cui passo dai vaccini a un altro tipo di terapia, che è quella degli anticorpi monocronali, sarà possibile avere questo tipo di terapia per l'appunto in pazienti covid non ospedalizzati e non in ossigenoterapia. Le chiedo, la cura degli anticorpi monocronali esclude dal vaccino o comunque sono due cose che viaggiano parallelamente? Sono due cose che viaggiano parallelamente. Comunque bisogna ricordare che i soggetti che hanno contratto il virus possono somministrare il vaccino soltanto dopo tre mesi dall'ultimo tampone negativo. Quindi comunque ci sono dei percorsi paralleli. Per quanto riguarda invece il fronte dei contagi, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane ci sono alcuni centri che sono abbastanza attenzionati. Tra questo anche la città dei Sassi, dove si sono verificati giorni in cui si è superato le 30, le 40 unità. So che ci sono stati anche incontri con il sindaco di Matera, Domenico Bernardi, proprio per capire in tal senso quali fossero le ragioni in qualche modo. Siete riusciti a capire cosa può aver potuto causare in questi giorni questi aumenti? Guardi, in generale su tutta la regione e di conseguenza anche a Matera, noi stiamo notando che ci sta un abbassamento progressivo dell'età media dei contagi. Perché ovviamente tra vaccini già somministrati e comunque azioni di distanziamento sociale, oramai le categorie più colpite sono quelle più giovani. Questo da un punto di vista ovviamente deve essere tenuto sott'occhio, rappresenta una criticità, però da un altro punto di vista ci tranquillizza per la tenuta del sistema ospedaliero. Nel senso che essendo le categorie colpite più giovani ci sono molto meno asintomatici, d'altronde l'RT non ha superato il livello di guardia dell'1,25 e contemporaneamente abbiamo visto il progressivo a riduzione dei contagi nelle fasce over 80. La situazione di Matera in particolare la teniamo sotto controllo perché effettivamente ci sono state delle punte molto critiche nei giorni scorsi. Ci sentiamo costantemente con il sindaco e con l'assessore del comune di Matera e stiamo monitorando la situazione. Credo che però il picco che era quello della settimana scorsa forse lo abbiamo superato. Stiamo attenti in questo weekend e cercheremo anche di superare quest'altro momento difficile. Tra le altre zone che mi sembrano sotto controllo da parte vostra, anche il Vulture con Lavello, Rionero, insomma anche lì ci sono delle situazioni di picco, se non sbaglio dottore, abbastanza preoccupanti. Sì, abbiamo superato la soglia, in particolare a Lavello, dove abbiamo proposto l'istituzione di una zona rossa proprio nel comune di Lavello. Teniamo sotto controllo Rionero che anche lì negli ultimi giorni abbiamo registrato un aumento dei casi positivi. Tutto questo però sempre con un'età media che si è abbassata notevolmente, stiamo intorno a 48 anni, oramai l'età media dei coloro soggetti che hanno contratto il virus. Quindi come si vede è un abbassamento notevole e questo però comunque ci impone un livello di guardia molto alto, specialmente in queste zone. Ecco, per chiudere, dottore, lei dice si è abbassata l'età media. Vi siete fatti un'idea del perché si è abbassata questa età media? Si è abbassata l'età media perché noi abbiamo vaccinato e messo in sicurezza tutti gli ultrottantenni. Contemporaneamente la diffusione delle varianti che sono molto più contagiose, hanno un tasso di contagio superiore a quello della prima forma di Covid, si sta diffondendo molto tra i giovani che tra l'altro sono quelli che più difficilmente rispettano le dovute distanze sociali, che rispettano i divieti imposti dalla pandemia. Bene, grazie per quanto ci ha detto, dottore, le auguro una buona giornata. Oggi immagino sarà una giornata impegnativa per voi, quindi buona giornata e buon lavoro. Grazie, arrivederci.